Siamo arrivati al mondo Simpson Siamo sulla lingua di Grassi Welcome to Springfield Sì, guarda, picchissimo Ha fatto benissimo È bellissima questa parte È proprio bella come è fatta Qui è proprio la brewery, non so che vendono Sala daff Può assaggiare la daff Solo la birra però Che qua non si beve e basta Senza cibo noi ci ciocca Per dire questo è il menù La daff costa 15 dollari americani Che sono tipo 15 euro Mi sa che anche volendo Anche volendo passiamo 15 dollari di birra C'è un pretzel con tutto sopra Non so che significa Se no c'è il pretzel Ah, c'è il pretzel di Margie Simpson 6 dollari Il pretzel di Margie Prendiamoci il pretzel No, perché dopo vogliamo andare Prendi Ficare la classe di burger Ma c'è una fila enorme Quindi è il mercato di pranzo Quindi mi sa che torniamo dopo Perché se no stiamo tutto il giorno qua Quindi è un pretzel Salato, dolce È buono, è salato Ah, salato? Senza dolce O è dolce salato? È un pretzel È salato morbido Questa è la spalla Bob Là sopra E poi questa è l'Elementary School E quello è l'omino dei donut Ah, questa è l'aiutante del Bapu Natale Ma questi ragazzini non ci vanno a scuola Mi avevamo beccato È Spring Break La fine del Spring Break Comunque parliamo di questo pretzel Con quello che è costato parliamone Quanto? 5 6 dollari 5,49 con le tasse 6 dollari È morto, sembra una brioche Siccome il pretzel è un po' secco È troppo delicato Questo che ne dedichi americano È pieno di burro Però è buono, diciamo per un break va bene È quasi un cornetto Ma come è? Immagino Mi ha bisogno del cornetto C'è pure qui come c'era prima Mario C'è sta Bart Hi Hi Bart Non parla ovviamente E poi è stato un piccolo piccolo cuo Qui però qua Perché lui fa finta che mi sta a dare il pugno Sta a dare il pugno poi che stava dalla mano Ma non favo fatto così Grazie Bart Sei altezza giusta Sì Comunque è troppo carino È carissimo E ovviamente c'è anche il dipartimento della motorizzazione di Springfield Dove stanno le sorelle di Marge Foto, momento foto Momento foto Puoi notare i particolari Comunque è fatto proprio bene E questo è disco stu Stus disco È ora di cena C'è ora di cena Già sei sei però Ci abbiamo fame Dove andiamo a mangiare? La grassi burger Allora vediamo se anche per noi poveri vegetariani c'è qualcosa Qual è? Ah questo C'è Beyond Burger C'è Beyond Burger C'è il mother of vegetarian burger Pickle, veggie, fries, vegetarian Ma include acqua? No secondo me devi pagare tutta lei Ah se paga tutto Ma l'acqua però sa dove prende il cervello Vediamo Bottled water Disorganizzazione a livelli incredibili Ok Però alla fine Abbiamo preso il ma... No cosa si chiama? Mother Nature Madre Natura Il van è un po' oscuro È integrale È buono È buono? È buono È Beyond Burger Quindi quello vegetariano Che hanno Com'è? È buono È un sacco stesso Mh Nerto È un po' secco forse Ci vuole un po' più le maionette Franchino che direbbe È secco È un po' secco Però il van Non è del laboratorio Cioè è del laboratorio È tutto del laboratorio Pure hamburger del laboratorio Però... Questo posto è del laboratorio È tutto del laboratorio Anche lì la cassa Siamo tornati a Springfield Perché siamo persi tutta una parte gigantesca Gigantesca Questa è la Nuclea Powerful Hunt Guarda che c'è un incidente È la Taverna di Mo Ma no ma... Servono il codice Tipo un altro bar Pub Ci stanno i Tacos Questo personaggio non mi ricordo come si chiama Non so in italiano come si chiama Guardate che bello di notte Veramente 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 bello Alessia mi ha regalato la torta di compleanno Il compleanno di Emanuele oggi Facciamo tutti gli auguri Emanuele nel video nei commenti Con la torta di... Con la Mega Donut No... Vedete quella... La Donut Lard Lard Donut Bello Speriamo che non c'è lard dentro Pink... The Big Pink Donut Grazie Allora siccome appunto è ancora il compleanno di Emanuele Come sapete abbiamo comprato una certa cosa Eccola qua La Mega Donut La ci hanno dato così però Muzzicata? E' grossa E' grossa quanto la tua faccia Ma non è enorme Ma vedi? Adesso mi ha intimato ma la posso mangiare tutta? Certo Perché sennò diventi un Come... Come loro Diventi un Americanone grosso Invece non devi diventare come Homer E' molto buona Guarda pure i buchi Buona 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 Ben lievitata Buona giornata Finiamo col botto Una carica di zuccheri Che potresti andare a fare adesso Transformer 3D No lo sai che posso fare adesso? Non è anche quel test che dicono che devi mangiare tutto lo zucchero Eh Volebbero farlo con questo Invece di... Bene Buona Come un'attrice degli anni 50 Da una fredda e ventosa Los Angeles Mai stata così fredda da anni anni e millenni Vi auguriamo... Buonanotte Al prossimo video Unque Universal Studios Hollywood Meritati? I soldi che abbiamo speso? Bellissimo Sì Auguri Emanuele Buon comprare Se venite prendete l'espresse entry Costa un botto di più ma vale la pena Assolutamente E comunque Alla fine abbiamo fatto praticamente tutte tranne una La mummia La mummia è rimasta lì Guardate il video Vedetevi il video su YouTube E quando uno esce pensa che è tutto finito Questa è una via intera di posti dove andare a mangiare dove andare a comprare E poi qui c'è una Ah pensavo che era una signora degli anni 50 Sempre quella dei film Come? Così E tra l'altro puoi fare male la schiena perché dopo la prima ride Così 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 Così